La sua stazza fa paura. Anche l'espressione è da duro. In campo è un leone, bomber di razza, talento puro e tanta cattiveria. Anche nello spogliatoio si fa rispettare e non ha paura di prendere di petto compagni e mister. Eppure, quando passeggia con la moglie Elena, Ibrahimovic diventa un mansueto agnellino. Il diavolo del Milan accompagna la biondina durante lo shopping sfrenato. Lei è piccolina, look casual per entrambi. I due camminano per